Grazie Idris. Prego fratello. Buonasera. Bene. Buonasera. Salve. Questa è la stampa di là. Buonasera. E lei? Dove va? Allo stadio. Sono venuto a farlo qua. Ma c'è l'hai il biglietto? Come un biglietto? C'è un biglietto da aereo. Sono venuto dall'Africa, da Rior, per andare per tutti i giovani. Sono qua con Idris. Sono fratello di Idris. Fratello? Non ci credi? Non ci credi. Idris. Ciao fratello. Che t'avevo detto bello? Ciao. Saluto ma calisht tu tansi, a tutti tansi.